Benvenuti, nostri follower. Prima di entrare nei dettagli, ho una semplice richiesta da parte tua. Voglio che questo video raggiunga più di 3.000. Mi piace perché ora ti darò una notizia molto felice. Ma prima, spero che questo video raggiunga il maggior numero possibile di mi piace. Grazie. Quindi, come vi ho confermato nei video precedenti, le previsioni sono stabili e indicano che l'Italia sarà interessata da temporali molto forti a partire dal 2 e 3 agosto. Questi temporali aumenteranno di intensità sabato 3 agosto, soprattutto nelle zone centrali e sud Italia, e c'è il rischio di gravi inondazioni, soprattutto nelle zone vicine al Mar Adriatico. E quindi, a partire da venerdì 2 agosto 2024, il tempo cambierà gradualmente e le temperature diminuiranno sensibilmente al nord, con possibilità di formazione di forti temporali su varie zone della Liguria, Piemonte, Valle d'Aosta, Lombardia, Trento, Alto Adige, Friuli, Venezia, Giulia Veneto, Emilia Romagna, Toscana Marche. Questi temporali saranno più potenti durante il periodo notturno. Poi, a partire da sabato 3 agosto, piogge e temporali molto forti entreranno nell'Italia centrale e meridionale. Questi temporali saranno più forti nelle zone vicine alla costa del Mar Adriatico, precisamente in Emilia Romagna, Toscana Marche, Umbria, Abruzzo, Lazio, Molise, Campania, Calabria, Basilicata, Puglia, con rischio alluvioni improvvise, soprattutto Marche, Umbria, Abruzzo e Puglia, quindi è fortemente richiesta cautela. Finora, queste aspettative sono stabili all'88%. Per cento.